La responsabilità di quanto accaduto per quello che ci riguarda è tutta russa, anche fosse stato un missile a contraerea ucraina nel tentativo di bloccare il bombardamento criminale su obiettivi civili che l'Ucraina continua a subire. Insieme agli alleati abbiamo ovviamente condannato questi attacchi missilistici russi contro la popolazione civile in Ucraina e abbiamo confermato il nostro pieno sostegno a Kiev. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!